Musica Adesso che c'è un documento ufficiale possiamo metterci l'anima in pace. Il documento lo ha approvato ieri il Consiglio dei Ministri. Si chiama DEF, Documento di Economia e Finanza. Certifica che quest'anno il deficit dello Stato crescerà ancora del 3%, arrivando a quota 131,7% del prodotto lordo. Il prodotto lordo che a sua volta scenderà quest'anno dello 0,3%. Come se non bastasse, sempre ieri sono arrivati altri dati preoccupanti. La disoccupazione cresce, i consumi calano. Siamo insomma in piena recessione. Per dire in maniera ancora più chiara, Se due o tre anni fa pensavamo che nel 2014, massimo nel 2015, saremmo usciti dalla crisi, oggi dobbiamo prendere atto che non è così e che le migliori previsioni si potranno fare a partire, se tutto andrà bene, dal 2017. Secondo il CNEL, per arrivare agli stessi livelli di occupazione di appena sette anni fa, si dovrebbero creare fino al 2020 almeno 2 milioni di posti di lavoro. Quest'anno, se andrà bene, si arriverà a crearne 100 mila. Facciamo dei conti e scopriamo che di questo passo, la cifra prevista dal CNEL la potremo raggiungere non nel 2020, ma nel 2034, se vivremo. Nel frattempo Renzi ci ha fatto un'altra sorpresa delle sue. Vuole farci trovare in busta paga 100 euro in più al mese, in aggiunta agli 80 che ha confermato. Stavolta però non li mette lui, non li mette lo Stato. No, no, lui ci anticipa i soldi nostri, il TFR. Manovra inutile, manovra penalizzante. Il TFR è la nostra assicurazione sulla vita. Non possiamo distruggerlo per una illusoria corsa ai consumi, corsa che non ci sarà come non c'è stata con gli 80 euro. L'economia si potrà riprendere soltanto creando lavoro. Solo se si creeranno nuovi posti di lavoro potremo rialzarci. E potranno riprendersi i consumi. Per questo gli aiuti, l'assistenza, gli incentivi vanno dati alle imprese, non agli operai. Solo che le imprese non votano. Gli operai sì.